Ciao ragazzi, sono Giorgio e quindi stiamo per fare questo video vlog e come oggi sto nella macchina mia, questa macchina mia è da... dai vumatiz sto per dire, allora, questo pomeriggio devo stare già con gli amici miei però se mia madre ci sbriga a prendere questa cosa di merda di merda perché non c'è troppe cose e quindi ragazzi scusate per gli occhiali perché e quindi ragazzi ci sentiamo se vado a Novali perché sto a Carmian è proprio un paese antico, proprio antico e quindi ragazzi ci sentiamo vediamo se facciamo questo video vlog su YouTube vediamo se mi porto, care batterie portate a me non mi porto anche le pade perché io con le pade posso fare tutto tutto, 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 tutto e anche sul telefonino posso fare speriamo che... lascio questo cosa, questo video e... beh, tutti ragazzi ci sentiamo al prossimo video ci sentiamo al prossimo video ciao ragazzi ciao a tutti ciao a tutti